infatti è una domanda che mi sono fatto anch'io perché ho detto o c'è un amplificatore nel violino. No, 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 io uso l'iPadium, c'è un programma che si chiama Force Core e con l'AirTune che si chiama la pedalina collegato con il bluetooth giro avanti dietro le pagine. Comunque ho scoperto che l'autunne e l'inverno dei Vivaldi mi conoscevo senza sapere il titolo. E' la primavera più famosa. Ho registrato un pezzettino di autunne e l'inverno ma ci sono dei pezzi che si usano anche in alcune pubblicità, dei filmati di Venezia. Le quattro stagioni di Vivaldi sono il brano di musica classica più inciso e più conosciuto. Sono talmente tante registrazioni scuografiche che quasi tutte le hanno fatte. E' italiano. Io dico sempre, mi vado. Anche Coreano italiano.